Oh! Chaimè conosciuta come signorina Kerbal Lei è fantastica, molto carina, molto ironica Però ha la risata facile Ricordatevi, ahimè, Chaimè Chaimè! Sto male! Questa game room è una figata C'è colori, c'è tutto Persino un bagno Spero di restarci il più possibile Raga! Avete mai visto due maranzali di gare? Oh! Fra! 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 Ma quindi mio figlio esce con questo tipo di persone? Ma ma tuo figlio è questo tipo di persone Fra! Fra, te fammi nel furbo, Fra, ok? Il primo eliminato di generazione LOL Vediamo il replay Ancora tu non eri nato Vai, due maranzo Resta incompetente! Passino a questa cosa, infatti Chilo è stato letale per te, Chaimè Sei la prima eliminata di generazione I mariachi Però quanto cavolo sono bella, rossa Hey, mi sono mancata Cosa ci fai qua? Chilo, vieni qua Ti è cascata la palla, amo Sei una brutta persona Chilo, nessuno sta scommettendo su di te Proprio vendicativa Proprio venditiva